centrale, però sapete come abbiamo deciso che trasferire a livello europeo quei poteri di sovranità economica che sono legati alla moneta era troppo, più di quanto ciascuno degli stati membri fosse disposto a fare e allora ci siamo convinti e abbiamo cercato di convincere il mondo che sarebbe bastato coordinare le nostre politiche nazionali per avere quella zona, quella convergenza economica, quegli equilibri economici fiscali interni all'Unione Europea che servono a dare forza reale alla moneta. Non tutti ci hanno creduto, molti economisti, specie americani, ci hanno detto allora guardate che non ci riuscirete, non vi funzionerà, se vi succede qualche problema che magari investe uno solo dei vostri paesi non avrete gli strumenti centrali che per esempio noi negli Stati Uniti abbiamo, che può intervenire il governo centrale, riequilibrare con la finanza nazionale le difficoltà delle finanze locali. La vostra banca centrale, se non è la banca centrale di uno Stato, non può assolvere alla stessa funzione a cui assolve la banca centrale di uno Stato che quando lo Stato lo decide diventa il pagatore senza limiti di ultima istanza. In realtà noi non abbiamo voluto credere a questi argomenti, abbiamo avuto fiducia nella nostra capacità di autocoordinarci e abbiamo addirittura stabilito dei vincoli nei nostri trattati che impedissero addirittura di aiutare chi era in difficoltà. e abbiamo previsto che l'Unione Europea non assuma la responsabilità degli impegni degli Stati, che la banca centrale non possa comprare direttamente i titoli pubblici dei singoli Stati, che non ci possano essere facilitazioni creditizio-finanziarie per i singoli Stati. Insomma, moneta unica dell'Eurozona, ma ciascuno deve essere in grado di provvedere a se stesso. era davvero difficile che funzionasse e ne abbiamo visto tutti i problemi.